La classifica del Girone A, ancora, perché ovviamente complimenti anche alla Boreale, quindi dove di mister Fabrizio Ferazzoli, Boreale pure retrocessa l'anno scorso del campionato di Serie D. Quindi la classifica, ecco, prima con Francesco Santoni che è il diretto interessato, in questo momento dice Cicchetechia, Pomezia, Valmontone e poi Boreale, cioè è molto corta ovviamente perché siamo alla quarta giornata. Secondo te, al momento, chi è che manca in quella parte sinistra? Sicuramente il Tivoli che c'è una partita da recuperare. Colleferro? Tivoli e Colleferro sicuramente, ma il Tivoli tornerà, se non succedono cose strane, il Tivoli tornerà nel lato sinistro, nell'altissimo lato sinistro perché, ripeto, è molto molto ben allenata, una piazza clamorosa, giocatori forti, hanno quasi tutto per poter arrivare. Il Colleferro, secondo me, è anche una squadra molto forte, partita male, però questo è un campionato, ripeto, essendoci tante squadre di buonissimo livello, sarà dura andarsene. Quindi questa cosa ti dà un pochino il tempo anche di recuperare, basta un filotto, fai tre vittorie di fila e sei rientrato. Secondo me il Colleferro, se lavora bene, il mister è uno che lavora, è uno tosto, è uno tosto che devi correre, se no è vero. Diciamo che, secondo me, può rientrare anche il Colleferro che ha una squadra oggettivamente forte. Cidavecchia te l'aspettavi, c'è Vittorini ovviamente che, insomma... Cidavecchia, già che ha Vittorini che fa 25 gol l'anno da, penso, da dieci anni, già parti con 25 gol, se va male, credo. Vittorini 25 quando fa male. Cidavecchia è un'altra realtà importante, la squadra è forte, la squadra è, secondo me, molto forte negli undici, ecco, non so quanto sia lunga, onestamente. Il mister è anche bravo, stiamo parlando, sto dicendo il mister è bravo, perché in realtà è pieno, veramente, nel girone A, io poi il girone B lo conosco un po' meno, nel girone A, è pieno di mister importanti che hanno fatto molti professionisti, la Serie D, ecco, il livello è alto. Un'altra è la Ranova, Vigna, oggi vittoria importante, insomma, 1-0 sul campo Roma, anche la Ranova, detta da tutti, insomma, una squadra allestita bene e quindi è una società che anche la Ranova può insidiarla. Altra squadra forte, l'ho vista, sono andato a vedermi in Coppa, altra squadra veramente, veramente attrezzata, ma ce ne stanno tante, eh? Chi sta affaticando è la Dispo, la squadra è giovanissima, però i gol iniziano a essere, che prendono sono veramente tanti, undici gol presi, insomma, è un campanello d'allarme, quindi c'è da lavorare. È giovanissimo, è la Dispo. È giovanissimo. Andrea Cacciotti chiede se si è fatto del girone A, tu vuoi fare il girone B, però un'idea, insomma, rivedendo la classifica anche... Sicuramente ci sono tantissime squadre, è livellato verso l'alto, Valmontoni per il mercato che ha fatto, per l'allenatore che ha preso, poi Federico lo conosco personalmente, lo scorso anno era Lodigiani, ha fatto un lavoro importantissimo, Francesco non lo scopro io e quello che ha fatto lo scorso anno è sotto gli occhi di tutti. Ci sono comunque società come Viterbo e Rieti, che sono piazze, che sono capologhi di provincia, e poi c'è stata tutta una serie di squadre, il Pomezia, il Pomezia secondo me ha fatto una squadra intelligente e un allenatore preparato, poi a me insomma piace anche eseguire altre situazioni, ma comunque ecco, Civitavecchia, ma la stessa Boreale... E infatti, Frazzoli... Il Certosa, il Colleferro, che comunque secondo me negli undici è una squadra importante, la Tivoli per forza di cose tornerà di là, è un girone che è complicato. Forse il vantaggio, come diceva Francesco, ne parlavamo anche prima quando siamo arrivati, difficilmente qualcuno potrà fare il vuoto, o meglio, ci aspettavamo che il Balmontoni lo facesse, ma poi alla fine, come diciamo prima, non è facile, non è facile proprio perché comunque il girone è complicato, quindi alla fine rimani sempre aggrappato, può essere un vantaggio. Non ti faccio la soglia domanda che le voci, è più difficile il girone A o il girone B? Hai detto prima, già solo andare a giocare in campi leggere è già difficoltoso, ma non solo quello. Ma guarda, dipende, io posso parlare per quella che è stata la nostra esperienza lo scorso anno, lo scorso anno tu hai lottato tutto l'anno contro una società gloriosa, storica come il Terracina, che ha un seguito importante, che sposta le masse e che comunque è importante. Francesco può dire lo stesso perché si è giocato a uno spareggio a altre fontane corrietiche, è un capologo di provincia, dipende, sicuramente il fattore campo influisce perché alcuni campi nel girone B sono difficili a livello ambientale, ma anche proprio a livello di terreno di gioco, magari al girone A ci sono compagini importanti, non lo so, non è mai facile, poi insomma alla fine, anche lo scorso anno si è visto in Coppa Italia, siamo arrivati 2-2 alle semifinali. Infatti...